Persona ma cos'è successo cos'era ma lisa ha tirato un urlo ma mi sa che non era lisa sera lisa Corri corri andiamo Perché hai urlato slisa e siamo arrivati di fretta e furia Mi ha investito un camion no colpa di ginger sicuramente Ginger è pure morto adesso devo finire un po' con voi ginger Dai che pari Cioè muore continuamente Comunque lisa hai visto che precisione chirurgica prendo sempre lui e mai te Questo è amore Mi son sentita sfiorare una chiappetta Dico la verità Anche qua vorrei una clip possibilmente grazie Ma con chi stai parlando? Parlando con le voci nella mia testa lo sai sono molto belli E anche molto belle A voi via, a voi via As di danno Ogni volta che sto con lui mi sento stranamente osservata E la cosa non mi piace Guardate sto fare un'acrobazia Wow magico sto Se avessi parcheggi Se avessi parcheggi C'era successo ancora E' stato morto prendiamola AAAAAAAA Cosa hai... perché hai urlato slisa? E siamo arrivati di fretta e furia Mi strappia Ma...